Il Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato nel pomeriggio di martedì il calendario della serie finale play-off tra Amene, Scuola Basket, Arezzo e Vismedri, Costone e Siena. Grazie al miglior piazzamento ottenuto in stagione regolare, gli Amaranto avranno la possibilità di giocare una gara in più davanti al pubblico amico. La serie di finale si disputerà al meglio delle tre vittorie su cinque partite. Le prime due partite sono in programma al Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo, domenica prossima alle 18.30 e giovedì 30 maggio alle ore 21.00. Poi gara 3 a Siena, domenica 2 giugno alle 20.30 al Pala Estra di Siena, mentre l'eventuale gara 4 si giocherà al Palazzetto Orlandi, Casa del Costone, giovedì 6 giugno alle ore 21.00. L'ultima partita invece è in calendario per domenica 9 giugno alle 18.30 ancora al Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo. Dopo un grande finale di campionato per la squadra di coach Serravalli e uno strepitoso cammino in questi play-off, adesso l'ultimo scoglio si chiama Costone-Siena. Dopo tanti anni di rincorsa e anche di amarezze durante i play-off, chissà che non sia la volta buona per la società del presidente Castelli per la promozione in Serie C Gold.